riprendo il video se capo treno logicamente sentendosi presi in giro logicamente gli accorso dietro gli accorso dietro anche se non andano avanti indietro e accorso dietro perché il conto è che deve il permesso e perché loro stanno facendo un lavoro essendo presi in giro perché loro lavorando non stanno giocando li ha presi tutti e cinque e a san giuliano milanesi gli ha sbattuti giù dal treno gli ha sbattuti giù dal treno a differenza mia che avevo questo permesso questo in tsr non ha una bella faccia non ha una bella faccia conciato così il solito convoy quasi sempre conciato mai ci danno state chi è mai da sono questi bimbi minchia con le arti di merda siccome non c'è niente di meglio da fare niente di meglio da fare vediamo un po facciamo un video confronto di due generazioni un tsr e un caro vecchio taff l'esempio di farina che è stata una rivoluzione all'epoca vent'anni fa quando perché alcuni li ha comprati le piaudine o milano all'epoca e avevano i colori blu e verde e alcuni e c'erbero stato che erano bianco e blu mi sembra adesso ho fatto questo colore unificato completamente brutto questo verde questo bianco che di peggio non potevamo fare anche il simbolo un simbolo che veramente di nebritezza estrema